L'Abruzzo replica la giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore un decesso e nessun nuovo caso di contagio da Covid-19. Così dall'inizio dell'emergenza restano 3.328 le positività al coronavirus nella nostra regione. 19 pazienti, dato invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Zero, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 102, meno 22 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 467 pazienti deceduti, come detto più uno rispetto a ieri, 2740 di messi guariti, più 21 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2728 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 121 con una diminuzione di 22 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 115.444 test. Del totale dei casi positivi 240 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1598 in provincia di Pescara, 633 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per quattro casi non è indicata la provenienza.